Campionato mondiale di calcio 1982 dalla Spagna in televisione tutto il mondial minuto per minuto 3856 impianti della RAI per far ricevere in tutta Italia 52 telecronache e le più importanti radiocronache un grande impegno della RAI al servizio del pubblico per l'occasione in viaggio col mondial il grande concorso per tutti i nuovi abbonati alla televisione del periodo 15 maggio 30 giorni per i vincitori 15 viaggi soggiorno per due persone in altrettanti paesi esteri partecipanti al campionato il regolamento del concorso in viaggio col mondial e il calendario degli incontri su questo manifesto poster che può essere ritirato gratuitamente presso i rivenditori radio tv sul radiocorriere tv ampi servizi e tutti gli appuntamenti della televisione e della radio con la RAI tutto il mondial minuto per minuto grazie a tutti